Ehi, qui va a mirarla e arriva a casa Ehi, qui va a mirare quei due pareti, io vedo i miei nonni Io partirò dalla mia famiglia a sciare Io invece aspetterò i miei cucini Pensate, io starò a casa per niente Io invece aspetterò tutti i miei parenti per fare una grande festa di famiglia Io vado in paesino In paesina Cosa vuoi fare di quei paesi che senti in guerra? La visita di un po' che ho venuto a Gesù 2.000 anni fa una facciola di nome Maria ricevette una visita molto speciale L'alcangelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea L'alcangelo Gabriele è fidanzata di nuovo del casetto di Dio chiamato Giuseppe E lo chiamerei Gesù Sarà grande e verrà chiamato figlio dell'Altissimo Come accadrà questo se non farò suo? Lo Spirito Santo scenderà su di te Per questo figlio che nascerà sarà figlio di Dio Ecco la serva dei signori Com'è la sua parola Dun SOC Come prova adesso Don Maria? Come la prenderà oggi? Don Maria le c soldi ero al settembre Giuseppe, non temere, non lasciare Maria perché quello che l'è successo è l'opera dello Spirito Santo e Dio che sta per nascere è il figlio di Dio e quando nascerà per cammere giù non posso lasciare Maria Popolo della Galilea, popolo di Nazio, cittadini di Roma udite e portate l'orecchio alla voce che vi fa è la parola e la rete di Roma imperiale l'imperatore di Roma e di tutta la terra accolte i suoi menti di tutti gli uomini e per riferire loro le famiglie finisce il territorio del inferno ogni uomo libero a partire da domani e prima di domani ogni capocamiglia, ogni lavoratore bracciante ogni responsabile, ogni ostigiano, fabbio e modalino avrà l'obbligo di recarsi con la sua famiglia nella sua città d'origine per registrare il suo nome e la sua casa l'ordine è di cella e l'occhio re e l'imperatore di Roma e di tutta la terra costruita ed è valido da oggi Che hociato? in maglia de coppe legname siamo giunti ecco bel terra vorransigli non te presso con la stiglia o con te che ho riconosato dentro un posto son o un posto 2006 in persone Lo stesso del Moro, avete rifugio di noi, mia moglie che lo regge, ed io sono così rovido. Osteria del Gallo, non sottoscava la terra per deve riposare, non ci mandiamo ancora. Sto andando nella commessa, tutto l'altare è un po' pieno, da sperano i migliori, quindi io ti do. Linda! Ciao! Possessate tre meni, che talma estrella, pensate in quale stato e quanta strada fece. Avvisi peggio gente, attendono la stella. Sono il micro bar, un'attività di arca, tutti i pezzi. Giuseppe, giunta ad ora. Ecco la stella. La stella. La stella. La stella. Maria giunta scolora, divinamente affronta. Il campanile scocca la pensanotte santa. È nato. Alleluia, alleluia. Sono il micro bar. No, no, no 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 No, 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 no No, 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 no No, 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 no 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 No, 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 no